Un'edizione 2013 ricca sotto il profilo artistico e baciata dalle favorevoli condizioni meteo che ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico, si stimano oltre 40.000 presenze complessive sia nell'area gastronomica della Piazza Darmi che al punto di degustazione di Piazza Garibaldi. Apprezzato anche il calendario degli spettacoli e delle mostre che hanno animato Piazza Carrara, il Teatro dei Rassicurati, da record il tutto esaurito per il Così Fan Tutte di Mozart e la centrale Via Roma dove il mercato degli ambulanti organizzato dall'Etruria Promo Service di Fabio Bartolomei con il fattivo supporto di ConfCommercio si è rinnovato nelle tipologie e nella qualità dei prodotti ricevendo il gradimento del pubblico. Da sottolineare come la manifestazione per tutta la sua durata non abbia fatto registrare episodi di disturbo dell'ordine della quiete pubblica con un afflusso e deflusso regolare dell'ampio traffico veicolare che ha preso d'assalto Monte Carlo così come ai punti di degustazione dove non si sono verificati i problemi. In tutto ciò ha contribuito il lavoro svolto dalla Polizia Municipale e dalle forze dell'ordine aggregate dalla Prefettura. Tutti soddisfatti insomma da Mario Davini, governatore della Misericordia e coordinatore dell'area ristoro di Piazza Darmi, a Gino Carmignani, presidente del Consorzio dei Vini Doc di Monte Carlo. Grande successo anche per il salotto del vino e del verde nell'ex palazzo Carmignani grazie all'impegno di Roberto Forassiepi e Fulvio Donatini, rispettivamente presidente della Proloquo e Sommelier FISA e responsabile dell'associazione italiana Sommelier.